Bella raga sono qui oggi per dirvi solo due cose ovvero che vi lascio il link in descrizione di chi è stato preso per il prossimo campionato di F1 2012 che inizierà penso appena dopo l'estate a questo punto quindi nulla c'è l'elenco di tutte le persone che potranno partecipare dei 14, 15 non mi ricordo più lo sanno bene i CPV e i Mazo che hanno fatto tutti i test persone che parteciperanno più le persone di riserva nel caso qualcuno non si presentasse o non abbia più voglia di giocare e quindi nulla vi rimando al loro video ringrazio infinitamente i CPV e i Mazo e tutti i ragazzi che hanno fatto il test veramente li ringrazio e nulla spero che comunque vi divertiate a vedere i video di F1 e continueremo questo campionato poi ne faremo un altro su F1 2012 e poi si passerà al nuovo gioco Bella Ciao